Benvenuti a tutti a questo mio nuovo video, questo è il primo video dell'anno, scusate se tra una cosa e l'altra non ho ancora caricato video in questo 2022, ma tra una cosa e l'altra non ho avuto più che altro molte cose da fare per quanto riguarda il canale e neanche troppo voglia di lavorarci su, insomma, incominciamo questo anno con le novità, diciamo con le prossime uscite per quanto riguarda l'unvideo, incominciamo con il cofanetto della terza stagione dell'attacco dei giganti, finalmente, comunque dopo tanto tempo che era molto atteso esce anche l'edizione economica, il prezzo del classico, un cofanetto da 50€ per 4 Blu-ray e a me più che altro piace parecchio la copertina, lo trovo molto figa, cioè, un po' mi tenta di comprare, anche se ho già la prima edizione, però, insomma, classico prezzo, né più né meno, classica cosa, insomma, nulla di particolarmente diverso dal solito, solo che si è fatto un po' attendere questa edizione economica. Poi, il 30 marzo esce anche la terza stagione dei Bleach, anche in questo caso, la solita edizione di Flixpress, anzi, meglio, come diciamo più che altro lo stanno pubblicando Bleach, classico prezzo di 50€, insomma, né più né meno, e, vabbè, è inutile ripetere le cose che ho già detto sia per il primo che per il secondo. Poi, il 17 febbraio esce il secondo film, un, diciamo, un altro film di Doraemon, e anche qui, vabbè, insomma, edizione classica, edizione effettivamente standard, che è strano, ma vero, Coach Media non chiama limited, perché ormai, cioè, Coach Media chiama tutto limited, e niente, che prezzo standard, anche qui, nulla da dire. Poi, usciranno le uscite di marzo, eh, per quanto riguarda Coach Media e Yamato, ovvero, uscirà, eh, in un video, Chi ha Shamsins e il terzo volume di, eh, Mimila nazionale di palla a volo. Poi, è stato annunciato da Doraemon Limited riguardante il film Demoslayer, che esce qui, in teoria, a 20 aprile, ma, chissà se verrà rispettata questa data, ho qualche dubbio. Tra l'altro, qui c'è scritto, chiusura ordine di 4 marzo, attenzione alla tiratura di stampa verrà tarata sulla base degli ordini effettuati, consigliamo pertanto di affrettarsi alla prenotazione. Semplicemente, diciamo che non ne vorranno stampare tanti in più rispetto alla preordinazione, ma tranquilli, qualcosina si troverà dopo, più che altro loro, giustamente, ti consigliano di prenotarlo, perché così te lo assicuri. Ma qualcosina in più ne stampano, per forza. Ah, per qui sì, il cofanetto di Chi ha Shamsins, come abbiamo detto prima. Ecco qua, eh, per carità, non è un prezzo esagerato, non è un prezzo scandaloso, però, però, costa intanto 5 euro in più rispetto allo standard, perché di solito, eh, questi cofanetti qui, amato video, li metti a 50. Ok, e sta a 55, non è, ripeto, non è scandaloso, però, non lo so. Tra l'altro, se non mi sbaglio, su Amazon dovrebbe essere in preordine a 40, non lo so, eh. Cioè, perché 40, se riusciste a prenderla a questo prezzo, secondo me è il suo prezzo, perché, soprattutto per un altro motivo, non solo i 5 euro in più. Cioè, un'altra, anche un'altra cosa che vorrei farmi notare. Vediamo un po' se c'è già sub, perché mi sono mi sbaglio, è Chi ha Shamsins, vai. No, aspetta, ho scritto malissimo. Shamsins, eccolo qua. Vediamo un po'. Ah no, è ritornato normale. Vabbè, comunque, secondo me, questa serie doveva costare 40 in Blu-ray e 35 in DVD. Ma perché dico questo? Perché la serie è stata stampata su tre dischi invece di quattro. Cioè, più che altro, essendo a loro costa meno, a loro costa comunque un pochettino meno a livello di stampa, secondo me, il prezzo più onesto per questa edizione sarebbe stato 40 per il Blu-ray e 35 per il DVD. Ma, non ripeto, comunque, i 55 e i 45, se non mi sbaglio, sì, 45 per i, comunque, che stanno, non sono neanche scandalosi. Però, secondo me, costa un po' di più rispetto a quello che ti danno. O meglio, costa un po' di più rispetto a quello che di solito a questi prezzi Yamato ti dà. E poi, ah beh, sì, poi il solito, qui, anche qui, il terzo cofanetto di Mimi, che costa anche lui 55 invece di 50, però qui ti danno i quattro dischi. Quindi, vabbè, qui, diciamo, più che altro qui sarebbe dovuto essere 50, ma vabbè, tra i due è quello letteralmente, secondo me, meno discutibile. Poi, in ultimo, la Tatsunoko Super Heroes, o AV Collection, Limited Edition. È una collector che, comunque, conterrà un bel po' di cose, tra cui, contiene la serie che è stata annunciata, il cui il doppiaggio l'anno scorso l'ho chiamato, vero Karaske. Tra l'altro, è tra le serie che più attendo. E spero che prima o poi facciano un'edizione stand alone, perché, onestamente, è l'unica cosa che mi interesserebbe in questo gruppo, e quindi evito di prenderlo, questo qua. Però, se foste interessati, c'è questa opzione, quantomeno. Non lo so se gli 80 euro richiesti siano un prezzo giusto, onestamente, più che altro, perché, comunque, non mi sembra questa grande edizione, se non per il fatto che sarà stampata in poche copie. Mi sa che di limitato avrà solo quello. Cioè, più che altro di limited avrà solo quello. Per quanto riguarda il resto, non lo so. Però, vabbè, io, personalmente, non mi interessa, più che altro, perché non mi interessa prendere gli altri quattro. Però, per gli appassionati della Tatsunoko, magari, questo cofanetto potrebbe essere, magari, già più interessante. Detto questo, iscrivetevi, commentatevi in questo video, dite cosa ne pensate di queste uscite. Ci vediamo al prossimo video.